buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial per la compilazione delle domande di assegnazione provvisoria 2023 2024 o di utilizzazione per per esempio chi vuole andare su sostegno entriamo nel sito del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca andiamo sulle istanze online e facendo accedi attraverso lo speed si entra nella funzione delle istanze dove esistono le domande che andrebbero compilate andando alla domanda che riguarda l'organico di fatto dunque la presentazione della domanda in di mobilità in organico di fatto questo è il modello che molti docenti dovranno compilare per fare la domanda di assegnazione provvisoria si sottolinea che non tutti i docenti potranno compilare la domanda in modello digitale perché alcuni non vengono riconosciuti dal sistema e in particolare tutti gli assunti in ruolo 2022 2023 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legge 73 che prevedeva proprio l'accesso ai ruoli dalle gps di prima fascia e coper il sostegno o attraverso il concorso straordinario bis andiamo e queste persone quindi dovranno compilare la domanda in modalità cartacea e inviarla tramite pecche all'ufficio scolastico della provincia in cui vogliono l'assegnazione provvisoria chi invece può compilare la domanda in modello digitale deve fare vai alla compilazione facendo vai alla compilazione si entra in una pagina dove vengono citate le norme sui dati personali sull'informativa della privacy facendo ho letto e andando avanti si entra in una pagina in una pagina dell'anagrafica del docente e facendo ancora avanti si arriva proprio alla scelta del tipo di domanda che si vuole fare quindi appunto si entra nella presentazione delle domande di mobilità in organico di fatto il personale docente e si deve andare a selezionare da questo menu tendina il tipo di domanda cioè di se vuole essere indirizzata all'ordine della scuola dell'infanzia della primaria della secondaria di primo grado oppure la secondaria di secondo grado per esempio facciamo scuola secondaria di secondo grado una volta selezionata questo menu dunque selezionato la scuola secondaria di secondo grado si deve scegliere ecco cosa si vuole fare se assegnazione provvisoria e dunque indicare la provincia per cui si vuole accedere assegnazione provvisoria oppure l'utilizzazione interprovinciale nei casi di chi la può fare e l'utilizzazione provinciale facendo poi il tasso inserisci vediamo per esempio l'assegnazione provvisoria l'assegnazione provvisoria viene deve essere scelta la provincia facciamo ad esempio scegliamo una provincia tipo catania e vedete scegliendo catania si clicca su catania si fa inserisci e si parte dunque con la domanda il poter compilare la domanda e le varie sezioni per l'assegnazione provvisoria la domina provincia appunto di catania vediamo le sezioni sezione di e la sezione le precedenze la sezione f quella delle esigenze di famiglia e via via le tutte le altre sezioni che non tutte sono diciamo vanno compilate obbligatoriamente ma una di queste è obbligatoria per esempio la sezione f la sezione f diventa diciamo assolutamente obbligatoria poi vedete che si possono scegliere le preferenze che anche obbligatorio inserirle poi vedete qui gli allegati vediamo un attimino facciamo un esempio di come si compila la sezione f dell'esigenza di famiglia ecco si apre la sezione f l'esigenza di famiglia e si chiede il ricongiungimento che può essere fatto o al coniuge o al convivente della parte di unione civile o familiare nel comune dice il familiare per cui può essere un genitore o può essere un figlio o anche può essere un parente o affine fino al secondo grado ma con convivenza certificabile si sceglie il comune facendo scegli comune e quindi si deve scegliere un comune di catania per esempio proprio la città di catania e quindi il docente avrà assegnato sei punti per il ricongiungimento poi si dovranno segnare i numeri di figli di età inferiore ai sei anni ricordiamo che in questo caso questo consentirebbe anche una precedenza comunque insegniamo per esempio che c'è un figlio di età inferiore ai sei anni e questo ci consentirà appunto di poter incominciare a salvare la domanda facendo salva speriamo che questo breve video tutorial sia utile ai nostri telespettatori ne posteremo in questi giorni anche altri un saluto a tutti quanti